Buonasera siciliani e siciliane e bentrovati all'edizione speciale della domenica del TG Antudo. Tra le questioni che questa emergenza ha fatto tornare a galla c'è sicuramente quella delle finanze degli enti locali siciliani, un tema che nelle ultime settimane è stato ripreso più volte anche da Leo Luca Orlando in qualità di Presidente dell'Anci Sicilia. I comuni siciliani chiedono trasferimenti a fondo perduto allo Stato e chiedono che valga anche per loro e non solo per lo Stato centrale la possibilità di non rispettare il fatto di stabilità. A rischio, dicono i sindaci, ci sono i servizi che i comuni erogano ai cittadini. In generale non si può negare che i comuni siano stati lasciati soli durante questa emergenza, abbandonati sia dal governo nazionale che da quello regionale che hanno fornito ben pochi strumenti per sostenere le famiglie in difficoltà. Ma già prima la situazione economica dei comuni siciliani, delle ex province e della regione non era felice. Sono infatti 130 i comuni siciliani che si trovano già in una situazione di forte difficoltà. Le ex province sono state lasciate senza fondi e la regione registrava circa 9 miliardi di debiti e 2 miliardi di disavanzo. Ci siamo dunque chiesti se la situazione è sempre stata questa. Abbiamo provato a capire chi sono i responsabili e quali le cause. Lo abbiamo fatto con l'ausilio di chi ha ricoperto o ricopre il ruolo di amministratore locale di un ente che presenta questa problematica. Circa il 25% dei comuni siciliani sono in bancarotta. In Sicilia ci sono 43 comuni che sono dissestati, ce ne sono 40 sempre dissesto, con tutto quello che ne consente. Andiamo nel 2001, finché non si fa la riforma del titolo quinto, quando i trasferimenti sia nazionali che regionali erano molto più consistenti e c'era un principio di sussidiarietà, i comuni, soprattutto i comuni del sud, parliamo della Sicilia, avevano minore difficoltà. Ad esempio io sono stato sindaco fino al 2000, la riforma del titolo quinto arriva nel 2001, io non avevo le difficoltà che oggi i sindaci incontrano, nel senso che avevo trasferimenti che mi permettevano di gestire sia l'ordinario che gli investimenti. Io ho finito di fare il sindaco nel 2000, l'avanzo di amministrazione che la mia amministrazione ha lasciato a chi è venuto dopo, era di un miliardo e settecento milioni di vecchiette. Nel 2000 siamo ancora con la linea. Poi non è stato più così, però io avevo maggiore possibilità di liquidità per poter dare risposta. Ma quello che è successo sostanzialmente è questo, ed è che per restare all'interno dei parametri imposti dall'Europa sono stati i posti dei vincoli, che è quello che noi normalmente chiamiamo patto di stabilità, che ha un versante di carattere nazionale che appunto sono i parametri del patto di stabilità e poi ha un versante che è il patto di stabilità interno che riguarda gli enti locali. Questo meccanismo ha fatto sì che i comuni progressivamente hanno contribuito a mantenere i parametri nazionali dentro i vincoli imposti dall'Europa in maniera molto maggiore rispetto a quanto contribuivano nella formazione del debito. Cioè sostanzialmente il debito nazionale è stato contenuto attraverso i comuni, che si sono trovati ad avere sempre meno risorse e avendo sempre meno risorse, sempre più servizi sono stati posti a carico dei cittadini. Bisogna dire la verità però che a tutto questo hanno contribuito altri due elementi fondamentali. Uno riguarda il fatto che i partiti hanno utilizzato i bilanci dei comuni come dei veri e propri bancomat, per cui la corruzione ha avuto un peso non indifferente nella formazione di debiti fuori bilancio e nella creazione di perdite nell'ambito delle società partecipate. E' un altro elemento che ha lì un doppio versante che è la scarsissima capacità di riscossione dei tributi che c'è in Sicilia. Questo è un dato che però ha vari versanti, uno dei quali riguarda una condizione di vera e propria povertà dei cittadini siciliani. Tanti di questi non hanno effettivamente i soldi per pagare i tributi. A partire da questo sorgono ulteriori domande. La prima, la soluzione a un problema che è economico-politico, può essere trovata da tecnici? Soprattutto, si può risolvere con le leggi di uno Stato che, con la drastica riduzione dei trasferimenti, ha contribuito a generare questa situazione? In altre parole, le leggi che regolano queste situazioni sono adeguate o portano a una strada senza uscita? Cosa succede all'ente che prova a riprendere un percorso di normalità dopo la situazione di sesso? Si sconta con un assetto normativo che tratta quel comune come se fosse un comune sano. In questo si è rotto nel corso degli anni un patto tra il territorio e lo Stato che gli enti che vorrebbero mettere in campo le misure di risanamento profondo, che sono quelle a cui facciamo il rendimento prima, cioè correggere le strutture che hanno generato la condizione di sesso, si trovano una serie di sbarramenti normativi, che sono gli sbarramenti previsti per i comuni normali, non per i comuni di sesso. Molti comuni di sesso non hanno il ragioniere generale, c'è Perugia, ovunque il ragioniere generale, molti comuni non hanno il ragioniere generale e quindi hanno difficoltà a fare anche il bilancio stabilmente di un intero. Dopodiché c'è una norma del 2016, il dolce che si è tentato di cambiare mille volte senza riuscirci, che dice che se non sei a posto con i quei bilanci non puoi fare l'assunzione. E quindi i comuni si ritrovano in questa condizione paradossale, per cui non hanno il ragioniere e quindi non possono fare il bilancio, non hanno il bilancio e quindi non possono prendere un ragioniere generale. C'è una norma che si è cercata di modificare dicendo al legislatore capiamo il senso della norma, ma prevediamo una tecola delle fedure infugibili. Perché io ho sempre sostenuto che i commissari non risolvono il problema, il problema è che nel tempo, nei 5 anni entro i quali bisogna fare i risanamenti, si riproverrà sempre un problema in quei comuni dove non c'è la capacità di riscossione dei tributi. Prima della riforma del titolo quinto con i trasferimenti statali i comuni avevano un obbligo di prevedere in bilancio almeno il 50% della spesa dei rifiuti. Quindi nel momento in cui i servizi sono diventati a carico del comune per intero, quindi autarchici, bisogna ricoprire il 100%. Cosa succede? Se è vero che la riscossione comunale nei comuni virtuosi non va oltre il 50% del 60% e il 40% non sarà incassato, lo si deve mettere al ruolo, però il servizio lo si deve pagare. Quindi quali sono le conseguenze? Di accumulare debiti, molto spesso debiti fuori bilancio. Debiti fuori bilancio che poi sono uno degli elementi per cui i comuni vanno in dissesto. Sia le condizioni di dissesto che di predissesto seguono la logica delle famose politiche di austerity. Tagli alla spesa pubblica, esternalizzazione dei servizi e svendita del patrimonio. Logiche che danno spazio a grossi privati nella gestione di interi pezzi di comuni. Ci chiediamo quindi se servizi primari e fondamentali come il trasporto pubblico, l'acqua, l'accesso agli spazi comunali eccetera, rischiano in questo modo di non essere più garantiti, ma servizi a cui può accedervi solo chi se lo può permettere. Si può ritenere che i processi di risanamento imposti dallo Stato italiano, così come sono, siano un attacco ai territori economicamente più deboli e alle fasce della società più in difficoltà. Il commissario, comunque commissariare o comunque diciamo mandare un comune in bancarotta sicuramente è una cosa drammatica, soprattutto per le fasce più deboli. Cioè il paradosso è che il lente in dissesto, a distanza di 3-4 anni dalla dichiarazione di dissesto, si ritrova con consistenti amanti di amministrazione e evidentissimi di servizi. E' costretto a comprimere la quantità e qualità dei servizi che rende alla comunità perché si trova ingappiato in un meccanismo normativo che non tiene sotto della specificità dell'intera generale di dissesto. E non c'è dubbio che il prezzo più alto lo paghino per la scelta. Questo non c'è dubbio. Nel corso degli ultimi 5 anni la spesa per servizi indispensabili come trasporto, assistenza di genio personale e assistenza alla pubblicazione di bambini con disabilità scolarizzati si è, almeno nel comune di milazzo, decomplicabile. Questi sono dei tipici che noi non possiamo contare alla nostra comunità. Quindi per 5 anni tutti i tributi e le tariffe devono essere portati al massimo consentito dalla legge. Se c'è personale in esubero devono essere messi a disposizione. O comunque se c'è una carenza di personale il comune non può più procedere a modificare pianta organica o assumere personale loro. E se noi teniamo conto che i comuni, soprattutto i comuni del sud, i comuni siciliani, non fanno assenzione da almeno 20 anni e se teniamo conto che oggi l'età media dell'impiegato comunale è superiore a 50 anni, non ci sono giovani. Abbiamo precluso ai giovani il futuro e quindi, diciamo, è come dire ai giovani siciliani cercate il lavoro altrove. La tassa sul rifiuto è aumentata notevolmente. A tassi, a differenza della tassa che prima veniva pagata per superficie, oggi invece c'è la parte variabile, c'è una parte fissa e una parte variabile. Quindi, parossalmente, uno che ha 5, 7 figli che magari non ha somme sufficienti per mantenere la famiglia, pagherà tre volte più di me che magari abito in una casa aggiata o degli stimenti. C'è, ci sono delle discreti e se queste cose non vengono meno, non si mette in condizione il cittadino di pagare meno per pagare tutti, questi problemi non saranno mai, a mio modesto parole, non saranno mai superati. La verità è che un'amministrazione locale in un regime di predissesto non mantiene l'autonomia politica perché è totalmente soggiocata dai vincoli di bilancio che gli vengono imposti e quindi si tratta di un'autonomia politica del tutto illusoria. I sindaci sono nuovamente di fronte a una scelta, possono decidere di, come hanno fatto in questi anni, richiedere delle misure di dilunzione, di temporeggiamento, di galleggiamento, oppure assumersi la responsabilità di un aperto scontro con lo Stato. Per dire che bisogna tornare a una logica per cui il servizio di trasporto pubblico locale deve essere un servizio universale, l'asilo nido deve essere un diritto dei bambini di tutte le città, indipendentemente dal fatto che facciano parte di una città più ricca o di una città più povera. L'alternativa è continuare a fare quello che hanno fatto finora, cioè assumersi la responsabilità di essere gli aguzzini dei propri cittadini e pensare alla prossima rielezione e questa è una cosa che fanno tutti. E' necessario che il legislatore prenda coscienza che bisogna trattare questo gruppo di comuni in una maniera diversa e spesso ancora vengono trattati tutti gli altri. Se i comuni sono lasciati al loro destino non ce la potranno fare. Se altrimenti il tema rimarrà soltanto tra l'accordo tra spesa corrente e spesa di personale, percentuali, statistiche che allora il tema non sarà stato affrontato nella sua sostanza, il fatto di solidarietà con lo Stato sarà irrimediabilmente rotto e l'Italia continuerà ad andare a due velocità con la differenza che chi va bene sarà sempre più forte e chi va bene sarà sempre più tempo. Il problema è prevedere, incentivare questo fondo di solidarietà del federalismo fiscale per dare aiuto a quei comuni che hanno maggiore difficoltà. I commissari sono burocrati, faranno la pubblicazione per la massa passiva, vedono chi sono i creditori che si fanno davanti, tutto quello che sarà incassato per le discussioni per i ciputi addezzati li vogliono perché devono sanare per 5 anni i debiti del comune, poi verrà il commissario assordinario per gestire la parte del Consiglio Comunale che lavorerà in sinergia con l'amministrazione che gestiranno un'altra cosa. Emerge che la crisi finanziaria dei comuni e della regione è il frutto di una sommatoria di fattori, di una sommatoria di irresponsabilità. Di sicuro giocano un ruolo fondamentale le politiche dei partiti nazionali il cui risultato è la riduzione sistematica dei trasferimenti dallo Stato centrale agli enti locali siciliani. È collegato a questo l'attacco sistematico delle rappresentanze politiche siciliane appartenenti a partiti nazionali e delle imprese collegate ai bilanci pubblici. Ciò che pare evidente con la gestione dell'emergenza coronavirus è che la situazione si aggraverà e senza interventi risolutivi la condizione di dissesso finanziario diventerà strutturale. Quello che si prefigura quindi è un allargamento della forbice tra i comuni che sono in condizioni finanziarie buone, che hanno maggiori introiti perché insistono su territori ricchi e produttivi, ovvero quelli del centro-nord, e quelli che si trovano nei territori più poveri come la Sicilia. Questo avverrà a meno che le comunità siciliane non spingeranno i rappresentanti delle istituzioni locali a costruire un'alleanza per aprire uno scontro con lo Stato italiano e pretendere di avere indietro ciò che è stato tolto. Grazie a tutti!